Un consiglio regionale cominciato con le scintille, quell'oggi in corso a Palazzo dell'Emiciclo. Fuori cancelli le proteste e gli inquilini delle case popolari dell'Aquila, non ancora ricostruite, dei dipendenti della strada dei parchi, con trae l'automazione dei caselli autostradali. Dentro tanti sindaci con fascia tricolore dei comuni del Terramano e del Pescarese, esclusi clamorosamente dal cratere sismico del 2016. A dare battaglia sugli scranni, l'opposizione di centrodestra e Movimento 5 Stelle. Forza Italia, con tanto di striscione sorrotolato in aula, minaccia di occupare l'emiciclo. Se a Roma il decreto sisma è in via di approvazione alla Camera, non sarà corretto il cratere ampliato, inserendo in primis anche comuni come Penna Sant'Andrea, Basciano, Penne, Catignano e Civitella Casanova, dove ribadiscono i primi cittadini il sisma inferto, danni non inferiori ad altri comuni inseriti nel cratere. C'è rabbia e incredulità. Non riusciamo a comprendere come il mio comune, il comune di Basciano e il comune di Penna Sant'Andrea siano stati esclusi dal cratere sismico. Io a Basciano ho 180 inagibilità e 120 sfollati, una popolazione che è meno di 2.000 abitanti. Purtroppo il comune di Catignano è stato colpito dal sisma in maniera importante. Ad oggi abbiamo 51 sfollati, due aree del centro storico interdette, le chiese chiuse, le torri campanarie pericolanti, una è stata messa in sicurezza. Abbiamo fatto lavori di somme urgenza per oltre 350.000 euro nella messa in sicurezza dei palazzi e abbiamo oltre il 25% delle attività in centro storico chiuse che devono essere costrette a lasciare le proprie sedi. In aula anche sindaci di comuni non terremotati ma che hanno subito gravissimi danni dall'epocale nevicata di metà gennaio e ora si ritrovano con la viabilità devastata da frane e smottamenti. Siamo stati di fatto lasciati soli di fronte alle frane, di fronte alla neve. Tutti i piani che erano stati pensati a livello provinciale di fatto sono saltati e i comuni sono stati costretti ad affrontare con i propri mezzi e le proprie risorse delle situazioni emergenziali che non avevano riscontro in precedenza.